Il Consiglio di amministrazione di Estra ha approvato la gestione finanziaria e il bilancio consolidato 2020 del gruppo energetico che lo scorso anno ha fatto registrare ricavi totali per 760,7 milioni di euro. Aumentano gli utili di Estra. Nonostante la pandemia, il gruppo energetico ha raddoppiato nel 2020 con una crescita del 107% il suo utile netto che si è attestato su 24,6 milioni di euro. Cresciuto nel 2020 il patrimonio di Estra, il cui valore ha raggiunto 392,4 milioni di euro in aumento rispetto ai 322,6 milioni del 2019. Anche Estra ha partecipato agli Oscar Top Utility 2021 per le aziende di servizi pubblici locali. Il gruppo energetico ha fatto parte della cinquina che ha ricevuto la nomination per la categoria AWS Sostenibilità.